Ben ritrovati dalla redazione di Frones Multimedia, in studio Cesare Martignan. In A1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma, traffico rallentato. Tra Incisa Reggello e Firenze in Prunetta in direzione Bologna, segnalata coda di 5 km per traffico congestionato. Tra Firenze Scandice, rilacciamento A1 variante in direzione Bologna, coda a tratti per traffico intenso. Tra Aglio e Calenzano in direzione Roma, rallentamenti dovuti al traffico intenso. In A12 presso la barriera di Rosignano, incolonamenti per traffico congestionato in entrambe le direzioni. In Fipili per la Voli, tra Ginestra Fiorentina e Lastra Signa, rallentamenti e code con tendenza all'aumento in entrambe le direzioni. A Firenze, blocco della circolazione per materiale disperso in carreggiate in via Faenza, zona Palacongressi. Muoversi in Toscana, un servizio realizzato in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Altre informazioni sui nostri canali social. Buon viaggio!